In attesa di mettere le mani su Assassin's Creed Valhalla il prossimo 17 novembre, ci siamo chiesti in che modo il nuovo titolo della saga Ubisoft potrebbe riproporre gli scenari dedicati ai vichinghi e alle avventure norrene. In tal senso, crediamo che un gigante della serialità come Vikings abbia molto da offrire in termini di ispirazione e direzione creativa. Ecco quindi in che modo la serie tv dedicata alle gesta del pro del Ragnar potrebbe influenzare il viaggio di Eivort, l'assassino. Iniziamo allora da ciò che non potrà mancare nel nuovo videogioco Ubisoft, i viaggi e la componente esplorativa. Se le imprese di Ragnar Lothbrok ci hanno insegnato qualcosa è che una parte essenziale della cultura vichinga è costituita dalla scoperta di nuove terre, con lo scopo di razziare ogni ricchezza durante la stagione primaverile ed estiva per avere risorse durante i rigidi inverni scandinavi. E sarebbe persino banale rimarcare quanto un aspetto del genere si sposi perfettamente con un open world dalla scala imponente come quella di Assassin's Creed, sebbene necessiti di alcuni aggiustamenti. Anzitutto, rispetto a Black Flag o ad Odyssey, la differenza più marcata sarà l'assenza totale delle battaglie navali, poiché i vichinghi non erano un popolo che combatteva in mare aperto ed implementarle sarebbe una forzatura davvero estrema. Ma dal punto di vista del game design, la sfida più stimolante è hardware rappresentata dall'aggiungere un ulteriore strato di profondità alla meccanica dei viaggi. Vikings, in compagnia di un manga affine come Vinland Saga, si concentra molto sulle peripezie continue che possono affliggere queste traversate. L'orientamento, il tempo avverso o l'umore del gruppo sono componenti capaci di mandare all'aria un'intera spedizione. Il nuovo Assassin's Creed non dovrà ovviamente diventare una sorta di gestionale, ma ci aspettiamo qualche novità sostanziale sugli spostamenti navali per rendere i viaggi qualcosa di più di una semplice traversata. Il punto successivo non può che essere l'obiettivo una volta sbarcati a destinazione e qui Vikings si è sempre divisa in due colossali macro-sezioni, le battaglie e gli intrecci politici. Ciò che nella serie tv rende le guerre appassionanti e quasi sempre indimenticabili è la perenne inventiva nel proporre scenari inediti, nuove strategie e modi per raccontare lo scontro. Un'altra componente dovrà essere saggiamente alternata agli intrecci politici, ovvero le relazioni che gli vichinghi hanno pian piano instaurato con i diversi regni che, verso il IX secolo d.C., si contendevano la Gran Bretagna. Soprattutto l'evoluzione di questi rapporti, con conquiste, tradimenti e colpi di scena all'ordine del giorno. Anche qui, grazie alle meccaniche dei dialoghi interattivi, siamo di fronte ad un aspetto che si lega naturalmente ad un gioco come Assassin's Creed, o almeno alla deriva più spiccatamente GDR inaugurata con Origins e proseguita con Odyssey. In Vikings era inoltre centrale l'ambizione di Ragnar nel trovare un'altra casa al proprio popolo, di ricercare un nuovo stile di vita che potesse conferire una maggiore stabilità. Ed è ciò che lo spinzi a creare una piccola enclave vichinga in Gran Bretagna, dedita esclusivamente alla coltivazione. In Valhalla, un'esigenza del genere sembra essere stata trasferita nella meccanica dei settlement, ossia il poter individuare un luogo da rendere letteralmente una nuova casa, similmente alla villa di Monteriggioni in Assassin's Creed 2 o al cuovo dei pirati in Black Flag. L'ultimo e certamente più delicato e complesso aspetto è l'importanza della cultura e delle tradizioni vichinghe. In Vikings è una componente a dir poco fondamentale, dalle puntate che rievocano e rielaborano fenomeni leggendari come il Ragnarok fino ai diversi riti, in particolare quelli funebri. La serie addirittura frenava la narrativa pur di dare il giusto risalto agli usi e costumi di un popolo straordinario come quello scandinavo. Si tratta di espedienti soprattutto visivi e unirici e se da un lato le ricostruzioni maniacali cui la saga Ubisoft ci ha abituato fanno sperare per il meglio, dall'altro permane qualche dubbio. Gli sviluppatori hanno già confermato che una grande attenzione sarà conferita proprio alla vita quotidiana dei vichinghi e che la religione norrena avrà un ruolo cruciale, senza tuttavia entrare troppo nei particolari. La speranza è che Assassin's Creed Valhalla riesca in tutti questi aspetti, centrando l'obiettivo di far provare le stesse sensazioni che da anni ci dà Vikings, trasferite in ambito videoludico. Grazie per la visione!